Benvenuti a Whispers of Wisdom, il canale che porta luce e saggezza nella vostra vita quotidiana. Siete pronti per un viaggio di crescita spirituale e trasformazione interiore? Vi invito ad iscrivervi al nostro canale, attivare la campanella delle notifiche e lasciare un like per sostenere la nostra missione di diffondere consapevolezza e ispirazione. Ogni video è progettato per guidarvi verso una comprensione più profonda di voi stessi e del mondo che vi circonda. Non perdete l'opportunità di essere parte di questa comunità di ricerca spirituale. Unitevi a noi su Whispers of Wisdom e lasciate che la vostra anima sia nutrita dalla saggezza ancestrale che vi offriamo. Siate pronti a risvegliare la vostra vera natura e a vivere una vita più piena e significativa. Iscrivetevi ora e preparatevi per un viaggio che cambierà la vostra vita. Grazie per il vostro supporto e per essere parte di questa meravigliosa avventura. Nel buio primordiale della caverna della vita, il cuore pulsante della nostra esistenza attende paziente, immerso nell'ombra, pronto a essere risvegliato dalla sua letargica dormienza. È qui, nel profondo abisso della nostra anima, che giace una scintilla, un vagliore tenue e silenzioso che attende di essere alimentato. Questa scintilla è lo Spirito Eterno, la forza vitale che risiede in ognuno di noi, una presenza nascosta nell'oscurità, ma pronta a brillare con un'intensità incandescente. Il cammino verso l'illuminazione spirituale è un viaggio profondo e misterioso, un'odissea dell'anima che ci spinge a esplorare i recessi più oscuri e intricati della nostra coscienza. È un viaggio di trasformazione e rinascita, un'opportunità per riscoprire la vera essenza del nostro essere e abbracciare la nostra potenza interiore con coraggio e determinazione. Mentre ci addentriamo sempre più nel labirinto dei nostri pensieri e emozioni, dobbiamo affrontare le nostre paure più profonde e superare gli ostacoli che ci separano dalla nostra verità interiore. È solo attraverso il coraggio e la perseveranza che possiamo illuminare il cammino davanti a noi e liberare la nostra anima dalla prigionia dell'ignoranza e dell'illusione. Il risveglio spirituale non è un evento isolato, ma piuttosto un processo continuo di autoesplorazione e crescita personale. Richiede disciplina e impegno costante, così come una mente aperta e un cuore compassionevole. È un atto di devozione e dedizione, un'affermazione del nostro desiderio di connetterci con il Divino e abbracciare la nostra vera natura. Durante questo viaggio, incontreremo sfide e tribolazioni, ma anche momenti di meraviglia e trasformazione. Ogni prova che affrontiamo è un'opportunità per crescere e imparare, per superare i nostri limiti e abbracciare il nostro potenziale più pienamente. È attraverso la sfida che scopriamo la nostra forza interiore e ci avviciniamo sempre di più alla nostra più alta realizzazione. Il risveglio spirituale è un atto di fede e fiducia nell'ordine più profondo dell'universo, nella saggezza eterna che guida ogni cosa. È la consapevolezza che siamo parte di un tutto più grande, che la nostra vita ha un significato e uno scopo che va oltre la nostra comprensione razionale. È la fede nell'infinita possibilità di trasformazione e crescita che risiede in ognuno di noi, pronta a essere attivata con un solo pensiero, un solo gesto di volontà. Quindi, ti invito a illuminare la tua vita con la luce dello Spirito, a abbracciare il viaggio verso l'illuminazione con cuore aperto e mente chiara. Che la fiamma della tua anima bruci brillante e forte, guidando attraverso le tenebre e verso la luminosa alba di una nuova consapevolezza. Il risveglio non è un evento statico, ma un'onda di energia che pervade ogni aspetto del nostro essere. Come una tempesta che sconvolge le acque calme, il risveglio può portare con sé effetti collaterali, turbamenti che scuotono le fondamenta della nostra esistenza. Ecco 5 effetti collaterali del risveglio. 1. Sfida alle certezze Quando ci avventuriamo nel labirinto del risveglio spirituale, le prime increspature si fanno sentire come fratture nelle fondamenta delle nostre certezze. Quello che un tempo sembrava solido e immutabile ora appare fragile e trasparente, pronto a crollare sotto il peso della nostra indagine interiore. Le vecchie convinzioni, come monumenti antichi eretti nel deserto della nostra mente, iniziano a sbiadire, a scolorire sotto la luce accecante della verità che cerca di emergere. È in questo spazio di incertezza e confusione che incontriamo la nostra prima grande sfida, mettere in discussione tutto ciò che abbiamo conosciuto e accettato come vero. Le domande sorgono come torrenti impetuosi, erodendo le rive del nostro pensiero convenzionale e spingendoci verso l'ignoto. È un viaggio tempestoso, ma necessario, poiché solo attraverso il dubbio possiamo raggiungere la profondità della comprensione. In questa fase, citiamo le parole di Alan Watts, il grande maestro dell'orientamento spirituale, che ci ricorda che la mente è come un paracadute, funziona solo se si apre. Questa citazione incarna il cuore stesso della sfida alle certezze. Per progredire lungo il sentiero del risveglio, dobbiamo essere disposti a lasciare andare le nostre convinzioni preconfezionate e ad aprire la mente a nuove possibilità. Solo allora possiamo sperare di liberare la nostra coscienza dalla prigione delle illusioni e abbracciare la verità che brilla come una stella nella notte oscura dell'anima. 2. Sguardo interiore Quando ci immergiamo nel profondo del risveglio spirituale, ci troviamo di fronte a uno specchio che riflette l'essenza più intima del nostro essere. È uno sguardo che va oltre la superficie, che penetra nelle profondità oscure e nascoste della nostra psiche. In questo specchio vediamo riflesse le nostre ombre, le parti di noi stessi che abbiamo tenuto nascoste, ignorate o negate per troppo tempo. È un momento di confronto doloroso, ma vitale. Le nostre paure più profonde emergono dall'oscurità, guardandoci dritto negli occhi con una sincerità implacabile. Le insicurezze che abbiamo cercato di nascondere si rivelano, mettendo a nudo la nostra vulnerabilità e fragilità umana. È un momento di crisi e di rivelazione, in cui ci troviamo di fronte alla verità cruda e indiscutibile del nostro essere. Ma è solo attraverso questo sguardo interiore che possiamo sperare di liberarci dalle catene che ci imprigionano. È solo accettando e abbracciando le nostre ombre che possiamo sperare di trasformarle, di integrarle nella nostra totalità e di rinascere in una nuova consapevolezza di noi stessi. È un processo doloroso e spesso difficile, ma è anche il fondamento stesso del nostro cammino verso la liberazione e l'illuminazione. In questo momento cruciale, ci rivolgiamo alle parole sagge di Thich Nhat Hanh, maestro spirituale e guida illuminata, che ci ricorda che non possiamo illuminare l'oscurità combattendola. Solo accendendo la luce interiore possiamo sperare di dissipare le tenebre che ci avvolgono. Questa citazione ci invita a abbracciare la compassione e la gentilezza verso noi stessi, e permettere alla luce della consapevolezza di penetrare ogni angolo oscuro della nostra anima e a trasformare la nostra percezione stessa della realtà. 3. Fuoco trasformativo Nel cammino del risveglio spirituale, incontriamo il fuoco trasformativo che brucia nelle profondità del nostro essere. È un fuoco che non consuma, ma purifica, bruciando via le impurità che ci tengono legati alla ruota del dolore e del desiderio. Le fiamme danzano con un'energia selvaggia, divorando l'egoismo, l'attaccamento e l'avidità che hanno avvelenato la nostra anima per troppo tempo. Questo fuoco non è solo distruttivo, ma anche creativo. Le ceneri delle nostre vecchie identità si trasformano in humus fertile per la crescita di nuove virtù. Dove un tempo regnava l'egoismo, ora fiorisce la compassione, dove l'attaccamento teneva stretti i nostri cuori, ora si apre lo spazio per l'amore e la generosità. È un processo alchemico, in cui il piombo del nostro essere si trasforma in oro puro sotto il calore ardente della trasformazione interiore. Ma questo fuoco trasformativo non è senza dolore. Come dice Seneca, il grande filosofo stoico, il fuoco prova l'oro, la sofferenza prova l'uomo. È attraverso la sofferenza che veniamo testati e forgiati, che le nostre debolezze vengono esposte e le nostre forze rivelate. È attraverso il dolore che impariamo a lasciare andare ciò che non serve più, a abbracciare il cambiamento e a rinascere in una nuova consapevolezza di noi stessi. In questo momento cruciale del nostro viaggio, dobbiamo abbracciare il fuoco trasformativo con coraggio e determinazione. Dobbiamo permettere alle fiamme di bruciare via le vecchie strutture che ci tengono imprigionati e di illuminare il cammino verso una vita più autentica e significativa. Che il fuoco della trasformazione ci guidi attraverso le tenebre e ci porti alla luce della nostra vera natura. 4. Sensibilità accresciuta. Con il risveglio dell'anima, i nostri sensi si aprono a una nuova dimensione di percezione. Ciò che una volta ci sembrava banale e scontato, ora si rivela come una sinfonia di meraviglie che danzano di fronte ai nostri occhi interiori. I colori del mondo diventano più vividi, più vibranti, come se fossero stati dipinti con pennellate di luce divina. I suoni assumono una melodia più profonda, più complessa, che risuona nelle profondità del nostro essere. La vita stessa, una volta opaca e monotona, si anima di una nuova intensità e vitalità. In questo stato di sensibilità accresciuta, ci troviamo immersi in un mondo che ci sorprende e ci incanta ad ogni passo. Anche le cose più semplici e comuni rivelano la loro bellezza intrinseca, invitandoci a contemplare l'infinita varietà e complessità del creato. È come se avessimo indossato occhiali magici che ci permettono di vedere al di là della superficie delle cose e di percepire la loro essenza più profonda. Questa sensibilità accresciuta non è solo una questione di percezione sensoriale, ma anche di connessione emotiva e spirituale con il mondo che ci circonda. Ciò che una volta ci sembrava estraneo e distante ora ci tocca nel profondo del cuore, creando un legame intimo e indissolubile con ogni forma di vita. È una sensazione di unità e armonia che ci riempie di gratitudine e gioia, trasformando la nostra esistenza in un'esperienza di pura meraviglia e incanto. In questo momento di rivelazione, ci richiamiamo alle sagge parole di Ralph Waldo Emerson, il grande poeta e filosofo trascendentalista, che ci ricorda che il mondo è pieno di cose meravigliose che nessuno osserva. Questa citazione ci invita a sollevare lo sguardo dalla monotonia della routine quotidiana e ad aprire i nostri occhi alla bellezza e alla grandezza che ci circondano. Che possiamo abbracciare la sensibilità accresciuta come un dono prezioso e esplorare il mondo con occhi nuovi, riscoprendo la magia che risiede in ogni angolo nascosto della nostra esistenza. 5. Forza d'animo Nel viaggio del risveglio spirituale, ci rendiamo conto che non si tratta di una fuga dalla sofferenza, ma piuttosto di una trasformazione che ci dona la forza di affrontarla con coraggio e determinazione. Le sfide della vita non scompaiono, ma assumono un nuovo significato, diventando opportunità per crescere e forgiare il nostro carattere in modi che non avremmo mai immaginato. Quando abbracciamo il risveglio, ci rendiamo conto che siamo come la quercia, che non si spezza con il vento, ma si piega. Questo proverbio cinese ci insegna che la vera forza non risiede nella rigidità e nella resistenza, ma nella flessibilità e nell'adattamento. Così come la quercia si piega sotto il peso del vento, così anche noi dobbiamo imparare a piegarci sotto il peso delle sfide della vita, senza mai perdere la nostra integrità e la nostra determinazione. Il risveglio ci dona la capacità di vedere al di là della superficie delle cose, di trovare il significato nascosto nelle difficoltà e di trarre forza dalla nostra resilienza interiore. Le sfide che una volta sembravano insormontabili ora diventano trampolini di lancio per il nostro sviluppo personale, occasioni per superare i nostri limiti e per crescere più forti di prima. Questo non significa che il risveglio ci protegga dalla sofferenza, ma piuttosto che ci fornisca gli strumenti necessari per affrontarla con dignità e grazia. La sofferenza diventa un maestro severo, ma anche compassionevole, che ci guida lungo il sentiero della crescita spirituale e ci aiuta a scoprire la nostra vera forza interiore. Pertanto, accettiamo le sfide della vita come occasioni per crescere e imparare, per abbracciare il cambiamento e per diventare la versione migliore di noi stessi. Che possiamo trovare la forza d'animo necessaria per piegarci sotto il peso delle difficoltà, senza mai spezzarci, ma sempre emergendo più forti e più saggi di prima. Il risveglio spirituale non è un cammino agevole, ma è un viaggio che merita di essere intrapreso. È un'avventura che ci conduce alla scoperta di noi stessi e del nostro posto nell'universo. È un fuoco che trasforma l'anima e illumina il mondo con la luce della nostra vera natura. Questo cammino non è riservato a pochi eletti, è un seme che risiede in ognuno di noi, pronto a germogliare se solo lo nutriamo con la cura e l'attenzione necessarie. Come afferma San Agostino, l'unica differenza tra un santo e un peccatore è che il santo ha continuato a provare. Questa citazione ci ricorda che il risveglio spirituale non è una prerogativa di pochi individui privilegiati, ma è accessibile a chiunque abbia il coraggio di perseguirlo con determinazione e dedizione. Oggi, inizia il tuo viaggio. Ascolta il richiamo della tua anima che ti chiama verso una realizzazione più profonda. Affronta le tue paure con coraggio e determinazione. Abbraccia l'incertezza come un'opportunità per la crescita e la trasformazione. Apri il tuo cuore alla bellezza del mondo che ti circonda e permetti alla tua anima di risplendere con la luce interiore. Risveglia il fuoco che arde dentro di te e lascia che la sua luce brilli luminosa, guidando lungo il sentiero del risveglio spirituale. Che questo viaggio sia fonte di ispirazione e di trasformazione, portando alla realizzazione piena e al raggiungimento della tua vera natura. Vi ringraziamo per aver condiviso questo prezioso momento con noi su Whispers of Wisdom. Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo video carico di saggezza e ispirazione. Il vostro supporto è fondamentale per la crescita e il successo di questo canale. Vi chiediamo gentilmente di lasciare un like, condividere questo video con coloro che potrebbero trarne beneficio e lasciare un commento con le vostre riflessioni e le vostre esperienze. Insieme possiamo creare una comunità di ricerca spirituale e condividere la luce della consapevolezza con il mondo intero. Grazie ancora per il vostro sostegno continuo. Vi aspettiamo al prossimo video su Whispers of Wisdom. Grazie a tutti.